E veniamo adesso a parlarvi di Gemma Galgani e Giorgio Manetti. La coppia che per diversi anni, ha fatto impazzire tutti i fans della trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ci sono veramente schiere di fans che come tocchi un personaggio di Uomini e Donne piuttosto che un altro non gradiscono? Per usare un eufemismo. Ma ultimamente in trasmissione Giorgio Manetti ha detto chiaramente che non vuole saperne nulla di Gemma Galgani. Facendo chiaramente capire che per lui la storia è finita. Ma nell'ultima intervista che Gemma Galgani ha rilasciato a oggi sembra ribaltare diametralmente le posizioni in campo accusando? Dice Gemma Galgani su Giorgio Manetti a oggi. Mi ha offeso troppe volte. E poi continua dicendo senza mai nominarlo che ci sono uomini che lasciano e uomini che si fanno lasciare perché pongono delle condizioni talmente inaccettabili per una donna innamorata da costringerla a fare questo passo? Insomma il riferimento mi sembra abbastanza esplicito e per quanto riguarda l'intimità dice che per me l'intimità non è solo l'unione di due corpi, c'è differenza tra fare sesso e fare l'amore.